Sì, è una russa organizzazione Stiak, che ci permette di uscire una cittadina un'ora da Bratislava. Fondato nel 2012 e costituito dall'incirca 250 membri. La gran parte di questi membri sono giovanissimi, ci sono addirittura dei ragazzini di 15 anni. A loro dire il motivo per cui si sono costituiti è difendere il loro paese in caso di eventuali minacce future esterne. Catastrofi, alcune pavodine e così. Dopodiché si pomaglano in dettagli, in alcuni locali, che si spaventavano e si spaventavano il mosto, quindi si spaventavano i jarchi, si spaventavano. Sono davvero solo ragazzini che si divertono a giocare alla guerra? E se invece fossero un facile strumento adottato dall'orso russo per destabilizzare il paese? Svrček si spaventavano i russi in Russia, poi deciso di sviluppare il slovenso Brantzi e un paio di anni dopo, uno dei membri di sviluppare il slovenso Brantzi deciso di slovenso pro-russi separatistiche in l'Ukraine. Inoltre, in Slovenia, stiamo facendo un po' di solito. Inoltre, in Slovenia, stiamo facendo un po' di solito. Non stiamo facendo un po' di solito politico, facendo un po' di solito politico. Inoltre, in Slovenia, stiamo facendo un po' di solito politico. Inoltre, inoltre, sono non significativi. Sono proprio un po' di solito politico. Ma cosa facendo, crea un po' di solito brotherhood spirito. Ci sono un po' di solito, spaventano il tempo nel bosco, facendo un fisico exercice, facendo un po' di solito, facendo un po' di solito. Per un po' di solito, ci sono molto forte, facendo un po' di solito, facendo un po' di solito. E poi, è molto facile, facendo un po' di solito, facendo un po' di solito, facendo un po' di solito. in cui sono un po' di solito, ci sono un pochè, ci sono in pochè di solito, in cui ci sono un pochè metà in cui ci sono incontrano. Ci sono amici con i fluidi ci siamo ci sono un po' di solito, ha a di solito di solito, ci sono un pochè, un pochè metà di solito per fare, Grazie.